Sicuramente non è il luogo dove pensiamo che potrà stare, quindi appena troviamo una sede idonea faremo l'istanza perché possa uscire. Lo avevano annunciato già in più occasioni ed adesso i legali di Alessandro Sacchi, l'ottantenne che lo scorso 21 giugno aveva ucciso la moglie Serenella Mugnai di 72 anni da tempo malata di Alzheimer, hanno chiesto la scarcerazione. Le porte della casa circondariale di San Benedetto si erano aperte per l'anziano a poche ore dal delitto e era stato arrestato dopo aver confessato di aver sparato alla donna. Gli avvocati Piero Melani Graverini e Stefano Sacchi adesso avrebbero individuato nella casa Pia la struttura in cui l'ottantenne potrebbe scontare l'eventuale misura cautelare meno afflittiva, ovvero gli arresti domiciliari, misura che potrebbe essere concessa per l'età avanzata e le condizioni di fragilità dell'uomo. Adesso però è atteso il risponso del tribunale. L'omicidio risale alla notte dello scorso 21 giugno all'interno dell'appartamento di Bialegiotto nel quale la coppia viveva. Senza figli da tempo faceva i conti con la malattia degenerativa che aveva colpito la donna. Quella sera l'ottantenne aveva impugnato la pistola ereditata dal padre mai denunciata e aveva esploso un colpo fatale contro la moglie. Nell'interrogatorio di garanzia reso con gli avvocati in carcere di fronte al PM Marco Dioni, Sacchi aveva raccontato che la moglie quella notte, nonostante fosse tardi, non voleva andare a dormire. Lì lui avrebbe perso la pazienza. All'uomo è contestato l'omicidio volontario aggravato dal legame coniugale con la vittima.